Ecco l'inizio dell'azione serenissima a Venezia, dove scorre a proposione la confutta e la pacezia. Ma cosa sarò a padrona di tutto il tridentico? Mi chiamano tutti i serbi omeni, si, grossissimi, più grossi ne sta caverna quasi. Raffreddore! De più! Unghia incarnita! De più! Doppie punte! I cellini cantano e le campane suonano e... Che? Devo stare a spiegare tutto? Arricchignor, lascio a me da sorghi e a me dolore! Va bene, ma... Arricchignor è sul modo di dire italiano! Si è il dottor? Chi? Si è il dottor? Chi? Ma insomma capa lì un nome, no? Si, è il dottor no! Il dottor no? Si, ma con due n... Ma cosa? Oh, Isabella! Il cantecchiar di Mario Pinti, un bellino! Valerio! Oh, amor mio! Basto io! E se lo lo cato, le ciavo! Ah, porco! Oh, i uomini! Come dà i titoli? Ah, perché io sono Dattino! Mangio il pane molto mio! E io sono Romanella! Fra tutte le serbe, la più bella! Oh, Valerio! Oh, Isabella! Liberiamoci da questo inutile giuo! Oh, si, Valerio! Ma lo devo fare! Ho capito! Arrivo! Arrivo, 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 arrivo! Dottorino! Dottorino! Cala signora stronzonia! Uuuuh! Vada i vecchi che ti ha ufficio! Vada i vecchi che ti ha ufficio! Vada ufficio! Vada ufficio! Vada. Valerio? Eh. Mi hai speso un miliardi, pur? Andate tra i migliori scuoli di moschettieri come a fare una cucina? E' un possibile! Valerio. No. La mia cucinaia cazza un sacco delle scaglie! Dottorino! È il dottore! Oh dottore, anche il dottore mi caccia da un sacco l'escaio! Eh, ma il teatro è finzione! Non figuriamoci, se nel 2012 una nave enorme si avvicina alla costa, allo scoglio, è tutta finzione. La 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 passerà, la 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 la, l'ora ne passerà. La la passerà, la 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 passerà. La la passerà, la la passerà, la la passerà.